Ecco a voi le rede di Xiaomi Mi 4, stiamo ovviamente parlando di Mi 4C, quindi come sempre bentornati in compagnia di Grosso Shop. All'interno del nostro store potete già trovare disponibile Xiaomi Mi 4C in colorazione bianca nella versione da 16GB che trovate anche all'interno di questa video recensione. Ovviamente il dispositivo ha una bella eredità da affrontare, quello di scavalcare il suo predecessore Mi 4, intanto abbiamo subito la prima novità ovvero l'USB di tipo C che avete visto anche all'interno di OnePlus 2, di le TV One X 600, 800, 900, insomma è la nuova porta, cavo reversibile, si può chiaramente attaccare da tutti e due lati come per esempio ebbene anche su iPhone con i suoi cavi Lightning. Il telefono presenta due SIM al suo interno, abbiamo quindi un dispositivo dual SIM, in entrambi i casi abbiamo la SIM in formato mini, poi abbiamo la porta a raggi infrarossi e una dotazione hardware che ormai avete imparato a conoscere. La fotocamera posteriore è da 13 megapixel con dual LED flash, mentre per quanto riguarda la frontale abbiamo una 5 megapixel per ottime foto selfie. Questo è lo speaker con il logo Mi nella parte posteriore, la back cover non è removibile e nel fronte del dispositivo, oltre alla fotocamera frontale, troviamo anche un LED di notifica di stato e nonché anche i tre tasti soft touch a rete illuminati nella parte frontale del nostro display. A bordo di questo Mi 4C troviamo Android in versione Lollipop, mentre l'interfaccia non è l'ultimissima versione, come si può vedere anche in questo momento all'interno del video, abbiamo al momento disponibile solamente la MiWi in versione 6, però insomma Xiaomi è al lavoro già sulla nuova interfaccia, sulla MiWi 7 e siamo sicuri che nel breve tempo arriverà subito su questo Mi 4C. L'interfaccia è la classica di casa Xiaomi, quindi non abbiamo app drawer, tutte le app sono al display, insomma ci troviamo a casa dopo aver visto Mi 4, dopo aver visto i nuovi Xiaomi Mi Note Pro, Mi Note, insomma l'interfaccia è la classica. In questo caso abbiamo la possibilità di riamminare il nostro display mediante anche i tasti volume su volume giù e poi potremo interagire subito con la nostra fotocamera. Le foto sono veramente ottime, quindi se amate fare foto con i vostri smartphone, questo potrebbe essere il telefono adatto a voi. Andiamo a parlare anche del display di questa unità, abbiamo un IPS LCD chiaramente da 5 pollici, poi abbiamo il Qualcomm Snapdragon 808 con 2 GB di memoria RAM, 16 GB la memoria interna e l'Adreno 418. Il display dicevamo è di tipo IPS LCD, sono 5 pollici, ben tarato, si legge bene sotto la luce del sole, ma anche nei luoghi più bui, davvero questo è un display favoloso. Facciamo subito partire i nostri test. Facciamo subito partire i nostri test. Leggermente più alta la temperatura rispetto alla concorrenza in questo momento, vuoi anche la ROM non proprio ottimizzata, però la batteria è ottima che è da 3.000 mAh, adesso test audio. Il touch in file con questo dispositivo è veramente ottimale, mi Xiaomi con questo Mi 4C, secondo noi mette davvero all'interno del commercio qualcosa di finalmente nuovo, moderno, con un hardware tutto diverso rispetto al predecessore, ovvero Mi 4, che comunque andremo a confrontare. Vi invitiamo all'interno del nostro blog, blog.grossoshop.net Oppure ci potete scrivere una mail a info.grossoshop.net Grazie a tutti.